bella ragazzi qui azzano e siamo oggi ritornati con un nuovo video, scusate se parlo piano sono le 6 e mezza di mattina che ho finito un modo di montà, mi sono scordato di fare la intro la sto facendo ora, sono molto cupo e sto caricando un video di giorno ed è tutto così buio che sembrerà notte sono Batman, non fateci caso, finalmente è successo, abbiamo trovato un todi era sì sul mio account, era sì mio, era sì in un pacco non scambiabile e voglio dirvi di non schippare fino alla fine perché in questo video non solo aprirò i miei premi Elite One che comunque me li so belli che sudati ma ci stanno anche i premi di Danielf che ha fatto terzo al mondo la scorsa settimana in Weekend League quindi non è un video solo riguardante il todi e anche quelli dello scloppone guardatelo tutto mi raccomando e vi chiedo una cosa, mi lasciate un like questo todi il modo più semplice per supportarmi è un like, facciamo vedere che quando Zano trova il todi 50.000 like li famo godetevi il video campioni allora ho fatto, alle rivals ho fatto schifo, pacchetto giocatori rari e pacchetto mega poi ho fatto, ah questi qui sono i miei Elite One, è vero, i rossi orribilanti proprio adesso le ho dovuti trovare proprio oggi, 125.000 crediti, due pacchi da 100, tre pick, due Team of the Week che però mi terrò Team of the Week fa abbastanza cagare al momento vediamo sti pick, che Team of the Week c'è? Fernandinho? eh? Elite One? ok Edermilitao, non male questo Elite One li tiro dritti perché tanto santi cazorla ah oh? eh eh io ho niente male ok Elite One ci posso stare e questo è un bastardo Ericsson, io quando ce l'ho contro lo detesto tipo buona elevazione 54 a centrocampo un trattore butta al club, buono vabbè abbiamo trovato il migliore oh ma c'ho 125.000 credit in più, è vero puliti i 125.000 crediti e c'ho 98.000 FIFA Points e questi qui sono gli ultimi perché non ne posso più di metter soldi dentro il mio portafoglio piange apriamo sti pacchetti mega speriamo che devo trovare qua no niente, qua voglio trovare solo tanti giocatori in modo che oggi almeno vi ammazzo di SBC proprio vi faccio tante di quelle SBC che ne uscite stupidi da questo pacchopening no work out che apriare i 35 poi alle... eh se ci stanno i lighting rounds poi dei 100k i 100k me li sdrinco, sdrunco ancora una volta almeno 60k FIFA Points ci vediamo giocatori rari questo che è il 50k pure loro ne ho aperti pochi no work out bandierine sì non male vediamo chi ce l'ha Brasile, DC ce l'ho già non scambiabile il campione a meno che non l'ho usato per una sfida no non l'ho usato per una sfida quindi è già non scambiabile esattamente altro pacchetto giocatori rari no work out bandierine sì Francia C o C ah yeah poi ci abbiamo i 100k cazzo oggi ci abbiamo anche il terzo al mondo da aprire vediamo il primo 100k ce lo darà un work out in due pacchi secondo me no secondo me proprio no vediamo chi ce l'ha una bella bandieraccia puzzolente non ho capito che cazzo allora fa dammi un altro 50k c'è back to back fa yeah niente male ultimo 100k vediamo chi ci dà nell'ultimo work outtino non è colorato ma va tappiando il culo Deo da Mendes sto stupido vabbè bella il mio elite one alla fine è stato per Ericsson questi qui si temono dopo che pacchi pro mi hanno messo ok no 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 questi qui non si aprono puzzano di sotto palla febbrato adesso però ci sta il mio amico Daniel a o da 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 oh bello da mi senti? si si ti senti porco dio siamo nell'account del terzo al mondo quanto sono fiero di dirlo da cazzo porca che pulizia sei proprio bello pulito non sarà una cosa che succederà spesso eh no terzo al mondo frate oh sei dio eh infatti spero avete trovato almeno Ericsson come ho fatto a me ma a parte che te dei rossi penso che sta settimana te ne frega proprio un cazzo stanno certi bidoni voglio sentirlo quell'odore fammi vedere l'odore del top 100 bam full champions weekend league terzo al mondo mamma mia quanto sei buono dai edà ma tu c'hai 5 pic mo 5 pic 200 mila crediti e 4 pacchi da 100 però il team of the week no se ripa prossima settimana pure io me li sto te ne fanno troppo schifo esatto vediamo chi te posso trovare in questa oh fernandinho il primo pic 87 è già uno dei migliori che ce l'ho fa dasce pure Ericsson sacco arnaudovic bono 87 86 si ci sta da tutti quelli quelli boni dacci un altro 80 84 83 eh questo è un po' puzzolente chi te prendo Arthur o Fraser sono tutti e due 84 sono tutti gli Arthur che faccio da ripetare ok buono buono li belli dai questi qui tutti dentro le sbc volano dai stai tipo così stai negli sbc un altro Arthur lo sapevo che dovevamo via all'altro fra un altro Arthur tocca via l'indeloff 82 e l'ultimo pic chi è oh è Fraser 84 beh diciamo che per il team of the week che c'è Ericsson potevano anche darlo eh infatti ho sculato quell'Ericsson 87 86 84 84 82 purtroppo dai hai scelto la settimana sbagliata per far top 100 speriamo la settimana prossima avere anche un 29 allora apriamo sti pacchettini mo ci abbiamo quanti pacchi da hai fatto pure le Rivals le Rivals quanto hai fatto? livello 2 livello 2 l'ultimate si buono io speriamo di trovare un blu altro che sarebbe oro colato guarda io ultimamente per quanto ci ho speso a livello di blu ho proprio poca fiducia pacchettino mega oh walk out il mega da no non è colorata peccato chi c'è da Italia cc e il grande verrà 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 vabbè oh però il mega cioè non se l'aspettavano il mega di solito queste qua che sfide so non walk out principali ah i principali non walk out bandierina una bandierina marcia e Michael non il padre purtroppo adesso ci abbiamo i 400k più il 125 noi speriamo solo in una luce speriamo primo pacco da 100k mamma mia che io ormai non ho aperti troppi so oh primo walk out non è colorata Brasile DC Naldo che puzza di sottopalla di dente febbrato Naldo 86 ogni tanto risuscita Naldo un altro pacco da 100 vai dai dai non è walk out porca puttana porca puttana puttana della troia portiere arsenal però mamma mia ragazzi una WL da G sono un walk out decente mi cazzo altro 100k e dacce sto walk out daccelo ok walk out è un if capirai eh è quel coglione dei Fraser grandissimo ma manco Arnautovic Fraser Fraser fra ultimo pacco da 100k per ora due walk out uno non ultimo walk out buono 3 su 4 molto buono non è colorata purtroppo Uruguay ATT oh Luis Suarez buono oh meravale buono sono tipo 170-180 mila credit meravale madonna meravale in più dentro c'è Raul Leaf non Lygon e poi abbiamo l'ultimo il pacchetto ultimate da pacchetto ultimate non è walk out ma come come frate io gli ho detto questi fanno schifo fanno troppo schifo non hanno senso è Mandzukic fanno schifo gli ultimate veramente insopportabili Werner Perin Mandzukic Tobi Gambi boh alla fine duco vabbè che c'hai ancora gli undici if che però ci teniamo prossima settimana poteva andare peggio realisticamente parlando però noi volevamo il todi vabbè abbiamo trovato Suarez un paio di walk out poi fidate gli undici if settimana prossima da è lì che sculamo fidate ci siamo ci siamo ci siamo primo no walk out schifo capirei con tutto il team of the yard dentro significa che non troveremo nessuno oggi funziona così il gioco bello il primo pacco giovinco sergi robert basta basta mi prego mi prego non ne posso più qualcuno deve tenere il viviano count qualcuno che tenga il viviano count raga no walk out due pacchi ci posso stare ci posso stare 31.000 no sono già finiti raga ne apro tipo 3 ne apro 3 neanche un walk out cioè tipo una cioè sono finiti che ci fanno con 50.000 qua dei cosi mamma mia belli neanche un walk out 4 pacchi marco salonzo questo qua il resto via ne te lo teniamo scarta il resto ancora vediamo quanti riusciamo ad aprirne speriamo altri 3 di farcela walk out please nada skip non posso fermarmi devo vedere solo la lucetta solo la lucetta posso vedere a parte che mo di tiè verratti dammene un altro dammene un altro ok è finita ragazzi 8.000 rimanenti e che ce faccio no walk out raga un walk out solo tra verratti che tristezza raga che tristezza carval bernardo silva sergi roberto 4.000 rimanenti ogni volta che ne apro uno ne scendono 2.000 walk out please nada nada sono introvabili boys uno che c'ho doppione che campione è odamendi marez mille questo è l'ultimo però no finiti ciao ciao mamma mia ci hai trovato 2 walk out in 13 pacchetti 12 allora scloppone mio lei perfetto stai richiedendo il servizio della mano più calda d'italia è oggi opzione 3 opzione 3 questa volta questa volta addirittura vuole più pacchi però tu questa settimana mi hai fatto elite 3 sclo no elite 2 me l'hai trollata vabbè dai vabbè è buono elite 2 in realtà cioè che se stiamo a lamentare ora ti trovo eriksen e stiamo tutti a posto facilissimo al terzo eriksen allora te apro prima il terzo si è qua eriksen sicuro te la trollo così vabbè appunto santi casorla tiè guarda come indica il cielo questo siamo noi che speriamo in un toti ogni giorno e poi ora ne uscimo così con questo giocatore esattamente allora uno che indica il cielo uno che prega e questa la macumba perfetta ma esce Gesù Cristo rosso e chi c'è da come qua Arthur e qua non mi passa Arthur mamma mia che schifo fra dai 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 la fortuna può girare in qualsiasi pacco è questa la cosa questo forse no però vabbè una bandierina almeno ce l'ha droppata spagna portiere il grande pepe reina te lo scarto questo o te li butto tutti il listo no no ma ti vedi non ti vedi non ti vedi e il pallone no vabbè il pallone no lo puoi buttare sta a buttare un pallone ok sclo no walk out bella vabbè o almeno due bandieri vabbè pacchetto omega dai due bandieri ce l'ha zata almeno no ah vabbè 80 watt buono oh no no pure quello dopo l'avevi visto chi c'era si si ma non li possiamo leggere non si dice dobbiamo far finta di niente dai campioncini capirai i 50 oddio santissimo che tilt apposta mamma mia altro 50k questo è work out è easy ebbè caputana giustamente manco bandiera ma il dropperi te l'hanno levato vabbè già io non ce l'avevo quindi non c'è problema mo l'hanno proprio disintegrato 100k sclo elite 3 25 win per questo pacco ok sono spagnoli oggi ma che è oh freddo fortissimo io in questo periodo sto proprio amareggiato per quanti pacchi ho aperto e vedo quando ce ne abbiamo tipo due così e dico ma che vuoi che cazzo c'è da dentro sti tupacchi per favore ti prego ah si 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 di bruin porco grazie 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 non ce la facevo cazzo più e quanto devo dare ma andavo a comprare la macchina andavo più a casa a te bruine così lo andavo a prendere andavo dai sali che te faccio fare una foto una foto tessera te ti faccio diventa blu e faccio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti